Tu dà a me anello. Mamma dà a te anello subito prima di nozze. Tu va a conto. Hermann, vieni in mia macchina. Non vuole lasciare sua sorellina sola. Io ti prendo spettine. Marone, aspetta, la macchina è là. Gianesa, amore, mi aspettate, te il castello. Ma questa non è la strada del castello. Dove siamo andati? Oh, ma dove mi sta portando? Io portare in suo paese, Italia. Maronessa Brunilde è dato questo per lei. E non fare te vedere mai di me. Mi hanno dato il perservito come a una scelta. Che schifo. Mia! Grazie a tutti. Grazie a tutti.